Siamo nell'ambasciata della Repubblica Bolivariana di Venezuela con Luquis Osebero Teranacosta, il nuovo ambasciatore, per dargli il benvenuto da parte del popolo italiano che noi in parte rappresentiamo ma del Partito dei Comunisti Italiani. Caro ambasciatore, con quale spirito affronti questo incarico così importante in un paese tanto importante e dedicato nel sistema di relazione della Repubblica Bolivariana di Venezuela? Grazie. Mi dispiace. Venezuela viene a occupare con mia presenza qui un spazio che, per ragione politica, aveva requerito la presenza di nostro anterior ambasciatore Raffaele Acaba a Venezuela e mi dann l'immenso honor per representare al popolo revolucionario venezolano, del popolo democratico, del popolo che aboga per la paz e il entendimento di tutti i paesi hermani del mondo, racionali, comprensivi, abierti a la intellettualità e al debate delle idee. Mi presenza in questa importante nazione di Europa representa, nuovamente, abri tutte le porte di Venezuela per l'Italia, il popolo italiano, il governo italiano, la comunità italo-venezolana e, e, per supuesto, dentro di ese spazio, perfectamente, abriamo come governo, come entità politica, a los partidos politici progresisti di questa importante regione della Europa, tan necessaria per la interrelazione con i governi latinoamericani. Grazie. Grazie. Grazie.